Noi abbiamo attivato un'ispezione, perché davanti a una tragedia come questa, la mia vicinanza va alla famiglia per quanto possa servire, è fondamentale che si faccia chiarezza e soprattutto si fotografi subito la situazione. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, invia gli ispettori sanitari per far luce sulla morte di Giacomo Leonello. Il bambino di 5 anni di Porto Viro si era sentito male domenica ed è morto nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova dopo essere stato portato in ospedale ad Adria e Chioggia. Una tragedia ancora senza spiegazione che getta nel dolore i genitori. Domenica il piccolo aveva accusato mal di pancia e vomito. All'ospedale di Adria, dove mamma e papà lo avevano portato, viene diagnosticata una gastroenterite, ma dopo il ritorno a casa il forte malessere persiste e i genitori corrono all'ospedale di Chioggia. Qui il piccolo ha tre arresti cardiaci e viene deciso il trasferimento in terapia intensiva a Padova, centro di riferimento per la rianimazione. La morte purtroppo è avvenuta nella mattinata di lunedì sotto la lente di osservazione tutte tra le strutture ospedaliere per ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del bambino. Tutto percorso in modo tale che la regione dà una foto di un'ispezione ovviamente superparta, sentendo tutti gli operatori, valutando tutti i passaggi, le cartelle cliniche eccetera, avrà un fascicolo che darà mano all'autorità. In queste ore inoltre dovrebbe essere disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso del piccolo Giacomo. Grazie.